mi ora non posso dire robe strane perché siamo nel server e dobbiamo comportarci da persone oneste dobbiamo andare fino al chio cane vabbè un depravato fermo glielo butto sotto troppo ti spiego un depravato è una persona pervertita e senza andare nei dettagli quindi non dire depravato perché non è una parola cioè forse è bannabile come parola mi so allora non lo sapevo mi so i signori di liceo ci sono ma dio poi 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 dopo poi dopo esatto cazzo star c ma io come posso aggiungere un'immagine ma io che capi anche te c'è ragione però logo aggiungiamo questa immagine del cazzo cioè non del cazzo nel senso nel senso fisico rimpicciolita poi me la faccio che gira quasi quasi tu pensai metterla che gira prossimo che faccio sai metterla che gira no non so mettere che gira lo devi fare tu da una da cosa un attimo che ho tolto la web vabbè vado a fare il cimile profondente collegate provato mi dissocio anch'io non avevo capito eh ormai mi dissocio ci dissociamo ci dissociamo tutta la cibo porto a posto fammi vedere qui ok ok vabbè il collega è stupido dai non ho prenduto la macchina tanto ce l'ho ai soldi non si so viola 26.000 a voglia ti dico io ciò è in banca 103.681 posso pure non mi dissocio lavorato si molto ora ha ho capito che può essere forse può essere che sono un lavoratore onesto vabbè io un attimo la cosa dell'esercito la tanto la posso usare però aspetto quali è che potevo usare per usare il renegade il ma la bravo e io sto andando verso le case popolari e vado a prendere la pistola e basta insomma ho entrato a scontro di servizio perché il collega è nuovo volevo dire presso esatto io non c'è voglia neanche di comprarmi una macchina perché dovrei andare a fare il bollo ripreso al culo e anche io perché un po' lontano bollo quindi andiamo con la collaggio dell'esercito italiano e io sono alla chiesa se vuoi venirmi a prendere la chi ti aspetto a me vincito dal meta eh ma vabbè no e ti sto chiamando al telefono guarda dimmi il tuo numero mi sta chiamando al telefono dimmi il tuo numero 2 poi 4.5 aspetta nuovo contatto si allora abbiamo detto 2 4 5 prattino ok 9 7 48 9 7 48 si facciamo registrare ma che sull'idea di merda bellacciò mettiamo bellacciò ciao al tavolo come stai ho chiamato comandone ciao ciao sì sì no il suo lavoro questo si ma la chiesa carriota ma la cosa non ho capito tomas di questa prima prendo anch'io poi la chiesa scusate se volete se volete vi aiuto la compra anch'io una di queste qua ok quanto costa comunque 5 mila ah ok minchia 5 mila euro per sta roba che cosa quale roba mi sono svegliato ciao 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 ferrano ha chiamato ma se stacchi ti ammasso sarai proprio tomas non sento un cazzo dai mi sto sta arrivando un attimo simone che lo ha chiamato liban 181 cosa c'è ci sono partito no ce li hai Thomas i soldi non te li do non te li do non te li do con questa vespa qua c'è affe vespa eh sì sì ma c'è ma va bene anche se credo che ti do un calcio tipo lo sportello si ribalta Thomas ma se ti do un calcio si ribalta no 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 prima di te la ribalta dai ti prego mi puoi dare qualche sordo iban muore 181 io ho bisogno di soldi perchè io non ce la faccio andare avanti ho tre fili quattro mogli non ce la faccio io no ho fallito gonare qualcosa per favore poi non ti chiedo più niente però mi devi da soldi tieni sono pochi non ce la faccio a campare e vai a vendere sti cazzo di limoni di pomo prima abbiamo fatto 3.000 eh li abbiamo detti a uno ce li ha dati in contanti poi è arrivata la polizia locale e si è scappati chissà chissà vabbè io vado a vendere ciao comunque 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 si guida in strada non sul marciapiede chissà buona buona arrivederci dove sei? dove sei? dove sei? ma state dentro? no aveva preso l'ape ha comprato l'ape tipo vendere i limoni no 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 non è un genio però ho coperto frate non sei alla chiesa io ci sto non ci sei ma come si fa me per la chiamata però non c'è ma aspetta ma sei la nato se alla chiesa nel civico 260 no ah no io dico cattedrale non chiesa che hanno la stessa immagine questi bastardi non mi so non mi so e' goliardico come ci vai bravo mi sono no mi non mi so ma se mi fermavano calcio quindi non sono presunto i miei erano e ho capito però anche te svegliati che ti devo dire ma non mi sono i limoni thomas i limoni si ma dopo deve venire anche casai che deve comprare anche lui eh però non dire non dire cosa ambigua ma cosa vuoi no ma tanto 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 se se casa dice qualcosa ci metto 3 secondi su un stream e vado in assistenza no no io faccio si deve fornick kid io faccio mi dissocio poi tipo da un banco e poi allora io mi dissocio sono alla cazzo iniziale un buco ah ma questo no vabbè mi ricordo a casa mia andiamo dimmi dov'è è quella popolare polari dove sta anche a me so io che eh sto no infatti non è lì cioè non si si è lì se ci ferma la locale sì ma vai piano vai piano che ti stanno vedendo un milione di persone c'è metà una non vabbè ma chi se ne diciamo che è colore di toms e litro no ma ho fatto schini no ma non vedo aspetto guarda dietro toms guarda dietro chi c'è pensiamo blocare che ho visto quando va veloce sto veicolo da più veloce di fermo di qua su vai piano vai piano singoli io sono limitato sì ma 80 è troppo e troppo 80 di andare a 50 no ma dove sei dove sei fermati fermati ti devo vedere siamo andati siamo andati eh stavi prima ad andare dalla mia vabbè su shhh ma non almeno in contromano ma guida almeno dritto dito comunque si può che sai che il caporale si è preso richiamo perché utilizzava l'auto dell'esercito lo so ma lui la usava meglio quando sto facendo la testa di sicure questa è un esercito questa la bravo questa la bravo quindi la posso fare un giorno e c'è anche il cattivo cosa per entra nel vicolo no 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 ma vabbè è stupido se sono stupido ferrazza se cercano di farci qualcosa che non giro ti prendo la pistola no 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 la prende la prendi e la rimetti nella fondina esatto proprio qui non volevo assolutamente vabbè sequestro il veicolo ma io che lo sapessiamo ma siete per peggiore? quanti giorni veicolo? non posso vabbè dai no sì ma toglilo perché ora andiamo con la mia bravo semmai è per una sera sto facendo aspetta te nevi dar cazzo posso sequestrando un veicolo ma bezzone io non commento anch'io mi sono assoluto ma quanto è cringe sono assolutamente ma che cazzo vuoi ma vabbè 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 cazzo ma che aspettami ok vabbè io sono salita in macchina vabbè 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 tu hai la macchina simu no che è questo ma ma che non ci hanno questi la c l'aspetto mi arrivo non lo so io mi devo andare a cambiare i vestiti perché se vado da lode ma fa il colloquio vestito da ausiliare del traffico ma se lo vado ecco la prossima volta vengo io gioco l'app di tt sfogo ff io partecipo il colloquio voglio vedere chiedo al dirigente mio amico no tu no a perché fate volessere solo sveglia dicevano alla mia squadra natio simone dammi i soldi quanti con tanti dammi i soldi in contanti il mio zelo non domandò mai fare thomas ai 200 giorni non cazzo si si chiedi i soldi si qualcuno può chiedere se tolgono l'aglio 400 tu mi dai 3000 io te li do in contanti oh la poli no e io ho paura ho paura ho paura tu puoi chiedere di togliere sta roba qua sì ma qui cosa c'è qui che cosa dovrebbe essere verde o no per andare a sinistra e no deve essere tutto non ci sono un semafora in terra aspetto che sia merda scusa ma scusa ma perché quello puoi andare dritto ma che cazzo devi girare qua scusa no non sto capendo no scusate interrompete il gioco ciao youtube no vabbè thomas mutato vabbè perché deve fare se vuoi parlare parmi in gioco no non ho parlato in gioco fai la alzo le mani schiocca le ditte si si dai dai polizia dai fermalo 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 dai 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 pieno rosso pieno rosso ho fatto fatta pieno rosso te vingici no thomas no 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 te vingici pom 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 dammi soldi in contanti gli do 2000 per 6250 no no prima dammi 2000 181 te li do in contanti prima te perché io tanto no ferra dammi li io te ce li ho qua pronti ad aia allora tu mi dai 1000 cioè io ti ferra aspetta 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 facciamo così tu mi dai 170 io ti do 1000 poi ti do altri 1000 tu mi dai no ferra tenendo 490 no ma io ne voglio 250 eh non è un problema mio ciao scendi ciao no ferra dai te li do basta che mi dai dei soldi prima te tu hai pieni soldi dammene 2000 prima te però prima te prima te guarda se sei guardi se guardi se guardi la stream c'è qui il cocco pronto eh ma io io te li doccio io qua sono solo un tv ferrax da dammi dammi ferrax ci sono io io non c'è la stream io non c'è la stream io non c'è la cosa ho detto ho detto dammi le 2000 dammi le 2000 ti do ti giuro c'è lo qua dai no non mi fido qua eh ferrax sto qua io ho la stream aperta puoi guardare te benissimo ho il cast invio aperto dammi e io ti do 2000 ferrax dai dai ferrax dai che tanto cosa ti costa puoi chiudere anche l'auto non scendo più er giac לשia messiissimo anche un prelevante no str gottable che ce li ho qua va b v53 vedi che laframe non mi vuolevi dare i soldi eh eh ma va perché tu non me li hai dati eh sì ma io ti ho detto come stanno le regole quindi adesso vai a scendere io qui non ho ben capito come cazzo in via al negozetto dietro c'è nooo non ci son più aspetta oh la smettiglio simone dis simone dis no 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 simon ben attimo per elevare i 250 mili dai ma nel negozetto dietro c'era un attento prendi sti caso di soldi dai dico io basta che viene da 2.9 milioni spara allora in culo stavo sei comodo premi f stai attento è che io te lo faccio aspetta un attimo non mi ha prelevato due secondi io te lo faccio la terra no 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 te li do io fida dici dai per aiuto lo faccio cosa vuoi tempo che te lo faccio sì o no 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 sali ho chiuso ma non ci sono le regole diciamo ok ti posso incappuzzare aspetta e stai fermo stai fermo non faccio niente a te mi sposto se mi cappucci ti sparo te lo giuro no non puoi vabbè ha incappuzzato me no scusa no ma perché non lui aspetta eh no vabbè bravo bravo ma mi stanno chiamando se non togli il cazzo di cappuccio chiamola min ok ma mi stanno chiamando da sandonà di piave non è un problema come da sandonà di piave i passieri ti chiamano qualcuno può chiedere di togliere la pioggia perché sto laggando a bestia anzio non si può o è che adesso non sei sulle 26 per access e tutto sei preparato non so niente si mai tutte le schede no come no io ero anche le cose dei materiali aspetti tu vedi che tu dava 1000 eh grazie metto questo dolcetto 50 non 1000 eh vabbè allora allora io vorrei chiuscire ma la casa è fighissima dei vigili fuoco dov'è? ah va a la vai a dritto vai dritto io devo andarmi a cambiare i vestiti aspetta no vai via ancora vestiti andata a faricine il fuoco io ma eh thomas io sono stato in catalizia scendete perché devo chiudere la macchina se no vi chiude la cosa chiudimi tanto io resto qua vabbè chiudilo dentro poi l'abbandoniamo qua no perché l'ho chiamo che ecco frax teni questo in caso di questo è molto utile tieni questo qua apri aprirò e ci sono tutti i kit per tutti i veicoli di soccorsi sistemi di c'è tu praticamente clicchi qua la roba e veicoli di soccorso tpt apre tutti i veicoli che sono inerenti al quasi ma diciamola tutti e che stia baranno no ma io l'ho di fps gli potete dire veramente di togliere sta pioggia di che mi laga la stream c'è sto perso ho perso la metà delle robe di poi già raggo di mio ecco ferra tieni questo per la divisa il primo è quello generale che se ti potessi fa domanda e tu vedi poi al lato ci sono tipo le varie cose che tu puoi cliccare tipo i stivaletti anfibi tu clicchi e ti apre la pagina sabina diciamo ancora dai coppia dai coppia quello che dice no ma il fatto non è tanto diciamolo su tc il fatto che c'è non è che voglio barare perché possiamo un figlio di ma tu devi barare perché gli altri lo fanno inviato le stesse robe potresti dare l'esempio ma che esempio bisogna barare sti giochi ti levi dei coglioni simone no perché mi sono utilizzato out there ti voglio vedere al giuramento con la divisa io non ho sminchiato l'outfit il caschetto me lo tengo stato cosa c'è cosa verso la fidanzatina mannaggia po quindi lui li piacciono i maschi mini socio le copie a quello che dice fermo beh su che non riusciamo a tenere una conversazione che era bloccato in macchina tipo i cani ancora quella foto è no ma se un piano è uguale con la dove spaziano 2009 e chi è che mi disegno ma sporo di è ma è non sta ci stiamo nota ma che ce l'ho dici non ho poi di basta basta no basta da ambo i lati vabbè non riesce a La prova adesso tutta la via polizia locale via via dove devo andare thomas e allora vai a destra adesso No oddio sei un po strano e io te lo dico cosa Cosa succede? Però non si veda così Che cosa vuol dire? Vai a sinistra ferra vai dritto 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 Sì ma guarda che stupido simone nella schermata della fine ma lui è stupido dai E vai a destra c'è sinistra scusa Se sinistra dai che per ecco come non devo guidare E vai dritto oddio cosa c'è da davanti Questo è quella roba Stavo seguito un po male però Te vai avanti guarda che figlio che vai No vai dritto no Dira Vabbè Ecco questa è la mafia appena trovata Comprimenti di solito E appena trovato la mafia Mi dissocio Hai appena trovato i muffin Ecco ma c'ho fame E io ce l'ho posta mattina Posso bestemmiaru? No Siamo family friend Allora dai Sì Investilo No no Dai gira sinistra Sinistra Ecco Vai Dai dai E ci seguo Ecco adesso Come farsi odiare i video Mi faccio il terzo dito Cosa? Hai giusto le corde vocali che ti serve? Non mi senti? Qual è il problema? Cioè? Questo qua scenda scenda Qual è la mano? Ho visto? Perché mi sei abbaggito medio? Eh no il tizio davanti è stupido Adesso lo lasciamo qua scendi Va beh Arrivederci Che figure di merda che ci devi far fare guarda eh Oddio C'è un aereo Eh eh sì devi andare a sinistra vai a sinistra Eh ma c'è un aereo Tom Non mi terei sei lì dai vai a sinistra È lì la base dell'Uvigili Guarda che figa Guarda 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 Come posso parcheggiare? Eh dietro Ah ecco Vabbè Dietro Mamma mia Scubbido No no In testa al cervello Tom Tomo so che sta rinca 40 Eh? Lo sai che non giro benissimo Gira qua E qua il parcheggio Sì no Adesso Avera Guida Gira Forse Non so se si può ma lui lo facciamo qui qua Guida là guida qua Guida là guida quà Ecco mettiti qua così Ho Vabbè non ce la fanno ce la fanno ah ma che sono dai che almeno se il primo te manca 26 minuti ancora sbagliato e sbagliato diremo quartiere di qualsiasi ferrex pilastro si uscola che mi fremmi laga tutto è lo stesso stiamo vedendo è che si è diventato lo soffi e scarica 40.000 e mega sud che un mafioso buttalo via eccolo ciao ma chiuso ma subito cosa però che non ha detto veramente non lo che guarda che bello però ho figo sono un corto candidatore vabbè ci stanno genovese ragazzo me lo andrei molto rapidamente ecco sì ma fai un bel metà game che ti frega no ma io so come sono vestiti per esperienza proprio te lo ripeto io ho arrestato no aspetta dove lo trovarò no aspetta dove lo trovarò no aspetta no aspetta no aspetta no no aspetta no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.